In questa lezione ripassiamo i complementi di luogo. Perché complementi di luogo? Perché ce ne sono tanti. I principali sono quattro. Vediamoli insieme. Partiamo da una frase semplice. Pino vive a Milano. Io faccio come al solito la mia analisi, parto subito dal verbo e vedremo che anche questa volta, anche per questi complementi, l'attenzione al verbo è fondamentale. Vive, predicato verbale. Chi compie l'azione di vivere? Pino, che è il nostro soggetto. Ora ci viene spontaneo chiederci dove e rispondere a Milano. La risposta a questa domanda è il complemento di luogo. In questo caso noi abbiamo un complemento di stato in luogo perché il luogo indicato è quello in cui il soggetto si trova. È quello in cui il soggetto compie l'azione. Quindi a Milano è un complemento di stato in luogo. Facciamo un altro esempio. Vediamo questa seconda frase. Andremo a Parigi. Andremo è il nostro predicato, predicato verbale. Chi compie l'azione di andare? Noi, soggetto e sottinteso. Dove? Ci viene spontaneo chiedere. Risposta a Parigi. Ma attenzione, mentre nella prima domanda, quel dove significava in quale luogo, e quindi abbiamo detto indicava il luogo in cui si svolgeva l'azione, questo dove significa verso quale luogo. Cioè indica un luogo verso cui io mi sto muovendo, verso cui il soggetto si sta muovendo. Quindi la prima cosa che dobbiamo ricordarci è un concetto che abbiamo ripetuto in tutte le nostre lezioni di ripasso precedenti, e cioè che il verbo è l'elemento fondamentale. Anche in questo caso, perché mentre il verbo vivere è un verbo statico, il verbo andare è un verbo di movimento. Quindi quando noi avremo un verbo statico, avremo un complemento di stato in luogo. Tutte le volte che avremo invece un verbo di tipo dinamico che indica un'azione, allora avremo un complemento di moto. In questo caso, moto a luogo. Perché questo verbo mi sta indicando il luogo verso il luogo verso il quale noi ci stiamo muovendo, noi ci muoveremo. Quindi una direzione verso un punto d'arrivo. Moto a luogo. È importante perché se ci fai caso, entrambi questi complementi sono introdotti dalla stessa preposizione. A Milano, a Parigi. Quindi recuperiamo un altro concetto ripassato finora. Non è sufficiente andare a vedere qual è la preposizione che introduce il complemento, perché noi sappiamo che i complementi diversi possono essere introdotti da preposizioni uguali. Tra l'altro i complementi di luogo possono essere introdotti da tutte le preposizioni e anche da locuzioni che poi andremo a vedere. Quindi, stato in luogo, Pino vive a Milano, è lì, è lì, fermo, vive lì. Invece, noi andremo a Parigi, stiamo compiendo un'azione di movimento. Stiamo andando verso un luogo. Quindi, moto a luogo. Vediamo ora un'altra frase. Siamo tornati ieri da Parigi. Siamo tornati. predicato verbale. Chi compie l'azione di essere tornato? Noi. Soggetto sottinteso. Verbo tornare. Il verbo tornare è un verbo di movimento. La domanda che mi viene spontanea col verbo tornare è da dove. Infatti, da Parigi, che è la risposta a questa domanda, è un complemento di moto, perché abbiamo detto che il verbo tornare è un verbo di movimento. In questo caso, però, moto da luogo. Perché? Perché non mi sta indicando il luogo verso cui io mi sto muovendo, ma sta indicando il luogo dal quale io ritorno, cioè il luogo che io lascio. Quindi, ricapitolando. Moto a luogo, vado verso un punto. Moto da luogo è il movimento da un punto che io lascio e quindi lo chiamo da luogo. Ok, proseguiamo. Vediamo quest'altra frase. Abbiamo passeggiato per il parco. Abbiamo passeggiato, predicato verbale, chi compie l'azione di passeggiare, noi, soggetto sottinteso, dove? Per il parco. Attenzione, però. In questo caso, non ci viene detto che noi stiamo andando verso il parco. Non ci viene nemmeno detto che stiamo venendo via dal parco. Ci viene detto che stiamo passeggiando attraverso il parco. Quindi la domanda precisa è attraverso quale luogo? Per il parco. Attraverso il parco. Allora, questo sarà sicuramente un complemento di moto, perché il verbo passeggiare è un verbo di movimento, ma sarà un complemento di moto per luogo, dove la preposizione per sta proprio a significare attraverso. Ricapitoliamo. Moto al luogo è quando io lascio un luogo e vado via. Moto per luogo indica un movimento attraverso un luogo. Quindi non ci dice dove stiamo andando, ci dice che stiamo camminando, ci stiamo muovendo in un certo luogo. Attraverso un certo luogo. Facciamo un'altra frase. Dalla scuola alla palestra sono passato per il parco. Sono passato è il nostro predicato verbale. Il soggetto sottinteso sono io. Adesso andiamo a cercare i complementi di luogo. Dalla scuola, quindi da dove, da quale luogo, questo indica il punto da cui io mi sono mosso. Io mi sono mosso dalla scuola alla palestra. Quindi mi sono mosso verso la palestra. La palestra rappresenta il luogo verso cui io sono andato. Quindi sarà sono passato per il parco. Quindi attraverso il parco io ho raggiunto la palestra. Ecco, raccolte in un'unica frase i tre esempi. Sono tutti e tre complementi di moto perché tutti e tre rispondono a un'idea di movimento, ma, come vedi, indicano luoghi diversi. Il luogo da cui sono partito, il luogo verso cui stanno andando e il luogo attraverso il quale sono passato. C'è un'altra cosa a cui bisogna fare attenzione. Abbiamo detto che i complementi di luogo sono introdotti praticamente da tutte le preposizioni e anche da alcune locuzioni. Le locuzioni sono un insieme di paroline. Facciamo degli esempi. Io potrei dire Ti aspetto davanti al cinema Predicato verbale Io Soggetto sottinteso Aspetto Chi Te Complemento oggetto Dove In quale luogo È un verbo di movimento aspettare? No Quindi avrò un complemento di stato in luogo Attenzione però Il complemento di stato in luogo è questo Davanti al cinema Non bisogna fare l'errore gravissimo Di dire Ti aspetto dove davanti A che cosa al cinema Sarebbe un errore veramente molto grave Davanti a Come potrebbe essere Di fronte a In fondo a Vicino a Sono Locuzioni Cioè insieme di paroline Che però devono stare insieme È come se fossero una preposizione Semplicemente sono un po' più lunghe Ma hanno sempre lo stesso ruolo Svolgono lo stesso ruolo Le devi considerare Come se fossero una preposizione Di conseguenza davanti al cinema Sta tutto insieme Ed è Un complemento Di stato In luogo Questo succede anche Per gli altri Complementi Io potrei scrivere Pino si è arrampicato In cima all'albero Si è arrampicato Predicato verbale Chi compie l'azione Pino Si è arrampicato Dove? In cima all'albero Anche in questo caso Va tutto insieme Sarà un complemento Di moto A luogo Perché sta indicando Il movimento Di pino Verso un punto preciso Che è la cima Dell'albero Il luogo È proprio La cima Dell'albero Quindi attenzione bene Dove? In cima all'albero Tutto insieme Un'altra attenzione Che devi prestare È quella Alla particella Ne Vediamo questa frase Sono andato in palestra E ne sono uscito Dopo un'ora Sono andato Predicato verbale Io Soggetto sottinteso Dove? In palestra Ormai abbiamo capito No? A luogo Ne sono uscito Dopo un'ora Sono uscito Soggetto è sempre Io Soggetto sottinteso Cosa significa Questa particella Ne? Ti ricordi che Continuiamo a ripetere Che quando troviamo Delle particelle Pronominali Dobbiamo sempre Esplicitarle Cioè dobbiamo sempre Spiegare qual è Il loro significato In questo caso La particella Ne Significa Da lì Sono uscito Dopo un'ora Da dove? Da lì Quindi Da Da L'uogo Attenzione Perché Sappiamo che Queste paroline Che queste particelle Spesso ci sfuggono E invece Sono molto importanti Perché Se noi le rendiamo Esplicite Ci chiariscono Con molta semplicità Qual è Il loro ruolo Il loro ruolo Il loro ruolo Spesso ci sfuggono Spesso ci sfuggono